gentili telespettatori buona giornata ma chi sono questi no green pass quelli che dicono no alla certificazione che attesta che avete fatto il vaccino o il tampone sono solo estremisti o no direi di no ci sono estremisti di destra ed estremisti di sinistra cioè principalmente l'estremista di destra l'estremista di sinistra non gliene frega niente del green pass ma protesta perché sì perché nella protesta loro trovano una forma di unione tra di loro un significato un senso alla loro vita è un po come quando si protestava quando protestavano per la notav confluivano in val di susa confluivano le tifoserie delle squadre di calcio che andavano lì solo per far casino della tav non sapevano neanche che cos'era quindi gli estremisti di destra e di sinistra nella maggior parte dei casi sono un po come quelli come i tifosi che andavano in val di susa per protestare contro la tav ma che non sapevano andavano lì solo per far casino la maggior parte degli estremisti di destra e di sinistra vale manifestazioni no green pass solo per far casino poi probabilmente hanno anche loro il green pass ma non ci sono solo questi ci sono anche c'è anche chi è in povertà chi teme per il proprio futuro precari rider pensionati lavoratori in nero gente che ha il reddito di cittadinanza ci sono in italia 5 milioni di poveri assoluti e 7 di poveri relativi che cos'è il povero assoluto e il povero relativo magari qualcuno di voi si riconoscerà in questa definizione e non la vorrà accettare il povero relativo è quello o quella famiglia quel nucleo familiare o quella persona singola che non può pagare o almeno una bolletta al mese cioè questo mese non non riesco a pagare la luce devo non pagarla la pagherò pagherò il prossimo mese sperando che non mi taglino cercherò allora chi non riesce a far fronte almeno a un servizio basico gas luce telefono chi non riesce a far fronte almeno a un servizio basico si reputa un povero relativo magari fuori alla mercedes ma non riesce a pagare la luce perché adesso io raccontandovi questo magari qualcuno di voi dice cacchio allora io sono un povero relativo ma che povero io ho la mercedes c'ho c'ho la casa di proprietà vabbè una non sono riuscito a pagare la luce questo alla scadenza sì ma cosa c'entra mica sono povero nessuno nessuno si autodefinisce un povero tutti trovano una giustificazione anche quelli tra di voi che staranno ascoltando le mie parole staranno con questo meccanismo mentale dicendo no io io no c'è gli altri io no è stato un momento cosa vuol dire è invece così per l'economia il povero relativo è quello i poveri assoluti sono quelli che non possono pagare nessun servizio sono quelli che non possono pagare luce gas telefono non hanno internet non hanno la macchina vivono distenti 5 milioni di poveri assoluti e 7 di poveri relativi 12 milioni di poveri su 60 milioni è una cifra della alta perché se prendiamo una calcolatrice una calcolatrice e facciamo 12 milioni diviso 60 milioni troviamo un 20 per cento impressionante due persone ogni dieci che incontrate per la strada sono o poveri relativi o poveri assoluti pertanto pertanto il il adesso scusate un secondo vi stavo raccontando mi sono perso un secondo in una cosa sulla calcolatrice intanto tra i no green pass ci sono diverse tipologie di persone non sono solo sono persone che hanno principalmente paura per il futuro paura anche della vaccinazione paura di perdere il lavoro pertanto ci sono anche poi i complottisti all'interno dimenticavo attenzione ci sono anche i complottisti quelli che che pensano che tutto sia un che ci sia tutta una come si dice una regia occulta ecco ci sono anche quelli quindi estremisti di destra di sinistra i complottisti chi è in povertà chi teme per il proprio futuro persone che hanno lavori saltuari e anche pensionati ci sono alcune alcune analisi su questo su questo fenomeno sarebbe anche mio per derubricare a folclore o a nostalgici del perché tutto quello sembrerebbe che chi gestisce il potere in Italia abbia voluto derubricare le manifestazioni no pass a dei nostalgici è un po' come voler delegittimare le manifestazioni se tu vai a una manifestazione sei un nostalgico te lo dice il mainstream di sinistra quindi nella logica tu ti devi vergognare ad andare a una manifestazione perché se vai lì sei un nostalgico visto che non ti ho convinto non ti ho convinto allora cerco di denigrarti di dirti che sei un nostalgico del ventennio del secolo scorso è una sorta di tentativo di delegittimare le manifestazioni additando ai nostalgici del ventennio tutto il peso di questo a me sembra con il passare del tempo sembra sempre più un una verità questa io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti